Un affresco di quella che è l'identità del Parco Nazionale del Cilento Vallodidiano Alburni e di quello che potrebbe diventare. Giuseppe Cilento, sindaco di San Mauro Cilento, destinatario di una petizione che lo vorrebbe presidente dell'ente parco, racconta su YouTube in un video di 30 minuti la sua idea di gestione. Il sindaco fino ad ora ha raggiunto quota 1300 firme circa e la raccolta è in continua scesa. Ecco, il parco ha questa funzione di farci stare insieme e quindi insieme noi possiamo trovare le soluzioni. Però vedete, insieme che significa? I sindaci, io sono un sindaco, no, stiamo insieme. Nel senso cioè che una volta, quando era nato il parco, si sono formate le commissioni di lavoro e invece adesso i sindaci vivono da soli, ognuno ha il proprio dramma, il proprio problema. Ma se formiamo delle commissioni di lavoro, noi possiamo dare un contributo come sindaci alle cose del parco. Se dividiamo per esempio in sei commissioni, abbiamo la forza propositiva per approfondire innanzitutto i problemi, perché i problemi vanno studiati. E poi per mandarli avanti. Ma le persone, i giovani, i giovani nella nostra zona non partecipano alle grandi rivoluzioni culturali del Novecento. Parlo dell'informatica, l'ho detto troppe volte questa cosa ed è caduta sempre in vuoto. Parlo dei settori dell'energia, dell'energia alternativa. Cioè, voglio dire, l'ultima volta che è stato presentato un piano per l'energia, risale al momento in cui era vivo Angelo Bassallo, di 52 milioni, sparito quel piano. Ma qual è il nostro fabbisogno energetico? E con quali fondi alternative va alimentato? E come facciamo per proporci degli obiettivi su questa cosa per rendere, per risparmiare innanzitutto, per non inquinare innanzitutto e per rendere competitivo il territorio, poi, che è un'altra cosa importante. E nelle commissioni edilizie ci sono gli esperti del risparmio energetico.